più giù sarebbe la velocità internet ok ok però me l'hanno scritta così in maniera molto professionale non ci sono arrivato subito cioè può andare a 100 gb per second ok 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 me l'hanno scritto in una maniera che non l'ho capito al volo che ho capito è normale che google è come viaggio questo m2 è normale che più di tanto a me non serve perché la mia velocità di connessione andava cioè è quella e 150 megabyte per second in download e 30 megabyte per second in upload quella è va bene così dai immaginare avere una connessione così ma che